Scuola in scena, maratona della danza, scuola di teatro, queste le attività che sono state rinnovate grazie alla firma del protocollo tra Assessorato d'Istruzione e Fondazione Fraschini. Siamo con l'Assessore d'Istruzione e Politiche Giovannini del Comune di Pavia Rodolfo Faldini, con il Vice Presidente della Fondazione Teatro Fraschini Graziano Leonardelli, per parlare del rinnovo della firma del protocollo col Teatro Fraschini. Tante attività e tanti progetti per i ragazzi. Sì, è un impegno che trova comunque possibilità di ripartire, stiamo rinnovando per il prossimo biennio una sinergia che ha dato i suoi frutti e che comunque mette in relazione progetti che vengono programmati e organizzati dalla Fondazione Teatro Fraschini e dall'Assessorato d'Istruzione che possono trovare ospitalità nelle due strutture di rispettiva pertinenza, il Teatro Volta per l'Assessorato, il Teatro Fraschini per la Fondazione e comunque mettere in relazione i rispettivi uffici per poter fare in modo che le esperienze teatrali possano essere utili non solo a chi calca il palcoscenico così per diletto, anche per professione, ma anche chi, come i ragazzi che frequentano le scuole cittadine possono invece trovare stimolo per delle passioni e per poter sviluppare anche il loro talento. Ed in più anche un fil rouge nei confronti dell'educazione. Abbiamo iniziato un po' a parlare di protocollo e del rinnovo anche in concomitanza con l'evento che è stato organizzato al Teatro Fraschini con Paolo Crepè quindi un impegno questo congiunto di fondazione ed Assessorato e in quella occasione comunque la fondazione aveva sottoscritto il protocollo di intesa per il tavolo permanente prevenzione e dipendenze. In più, oltre un po' a tutto quello che si è detto, anche la possibilità di fondere e comunque intersecare i percorsi ospitando nella festa dell'educazione in programmazione a maggio del 2013 anche l'evento conclusivo che vede un po' protagonisti tutte le scuole partecipanti in Castello Visconteo con scuole in scena e la festa dell'educazione. Quindi momenti nei quali andare a suggellare, nei quali andare a significare una collaborazione che è offerta proprio nei confronti della cittadinanza perché questa possibilità di divertirsi e comunque di coltivare passione possa essere fatta al Teatro Volta e anche al Teatro Freschini. L'attenzione verso i giovani da parte del Comune e quindi anche da parte della Fondazione Teatro Freschini che è una fondazione partecipata dal Comune di Pavia mi sembra doveroso che va sulla scia dei precedenti protocolli d'intesa a favore della variegazione dell'iniziativa giovanile che va dalla danza al teatro alle scuole di teatro a concerti e, cosa nuova, va a una serie di manifestazioni, diciamo, di tipo convenistico quasi, promossi dall'assessorato alla cultura, agli istruzioni del Comune di Pavia, assessor Faldini, che è cominciato a ottobre con la presenza di Crepè che ha visto il pienone in Teatro Freschini. È stata una serata simpatica ma soprattutto istruttiva per i giovani. È ovvio che l'attenzione verso la gioventù, soprattutto verso i più giovani, direi, è particolarmente sentita dal Comune, visto che le nuove generazioni, diciamo che attraversano un periodo di difficoltà, di spesamento, dato anche dal momento critico che attraversa non solo la nostra nazione ma un po' tutto il mondo occidentale, quindi bisogna avere una particolare vigilanza per certi versi ma anche offrire dei particolari aiuti ai giovani per incanalarli verso attività che scelgono sì loro ma che devono essere in qualche modo supportate dal pubblico che poi sia il Comune e il Freschini che si mettono d'accordo per aiutare queste realtà mi sembra una cosa molto positiva e che tutto sommato va a favore un po' della comunità locale largamente intesa.